Grazie a tutti. E quindi avete visto nella slide di Angelo Badini una slide dedicata a Jenny Poletti e al suo libro Lettore, scrittore si diventa. In questo gruppo che lei ha creato una community che si chiama Italian Writing Teachers, il nome è inglese ma è professore, i docenti sono italiani e sta su Facebook. Sono molto attivi, Jenny ha scritto questo manuale per Erickson che si chiama scrittore si diventa dove il focus dell'azione è soprattutto nel cercare di creare dei lettori per la vita, degli scrittori per la vita come l'ha detto pure Angelo Badini. Dunque quando mi ha invitata a venire qui sinceramente io non sapevo che cosa venire di raccontare perché io non sono un esperto di biblioteca scolastica, io sono un'insegnante di lingua inglese. Come voi lo potete ben capire, conoscere bene la lingua inglese è un fatto di opportunità e quindi su questo mi vorrei concentrare. Angelo ci ha chiesto di parlare, biblioteca scolastica dici che cosa fai? E la seconda domanda è inclusione, se pensi alla parola inclusione dimmi cosa pensi. Questo era pure un hashtag che lui ha fatto circolare questa estate e alla fine vi faccio vedere pure che cosa io ho risposto di questo hashtag. Scusate la mia pronuncia ma non sono completamente italiana, infatti il hashtag che lui mi scrive sempre in Twitter è quasi Austria. Dunque la prima domanda è questa. Poi senti la parola, la prima volta che ci vediamo siamo amici da due anni. Sì ci inguettiamo da due anni, questo è anche la potenza di internet, no? Se l'hai visto prima non sei venuta, lo so. Oh mamma. Va bene, dunque, questo, non lo so, io sono tutta una contaminazione, quindi questo pomeriggio i miei sono appunti sparsi, forse non saranno nemmeno tanto logici, però credetemi che un punto di arrivo ci sarà alla fine, d'accordo? Quindi questi sono i miei ragazzi che vedete in questa foto e pure questi sono i miei ragazzi nella classe che leggono. È molto difficile di fare leggere in lingua inglese, lo potete ben capire. Uno perché gli italiani non hanno una passione per la lingua, è molto scoordinato anche l'approccio metodologico all'insegnare le lingue straniere. E in secondo luogo perché i nostri ragazzi, io insegno le superiori, questi che vedete sono ragazzi di seconda, terza, liceo, e non sempre hanno le competenze per poter leggere in inglese. Quindi la mia domanda è, si può leggere in classe con finalità non legata alla trasmissione dei contenuti? Perché è pur vero che noi leggiamo nella classe. Uno legge come avete studiato voi l'inglese, l'insegnante che ti dice, leggi, poi traduci, poi un altro legge, poi un altro traduce, dimmi tu che cosa hai imparato e soprattutto quale piacere hai ricavato. Quindi noi abbiamo fatto questo progetto. Quindi il secondo punto è come fare per leggere in lingua straniera. Uno dei modi sono questi libri di lettura, graded reading, che propongono una lettura più facilitata. Ma lo stesso non sono sufficienti. Allora, il punto dal mio titolo è reading for pleasure. Quindi leggere è questa parola chiave, pleasure, il piacere di leggere. Dunque abbiamo una grossa barriera di affrontare. Perché quando io dico ai ragazzi, ragazzi, leggiamo qualcosa in più d'inglese, allora subito come, cosa, perché, dove, quando. Allora quando dico quando, in classe ragazzi, allora va bene. Perché hanno tante cose da fare, soprattutto nelle cernole superiori. Quindi la domanda è stata la risposta, se leggessimo in classe, qui vedete i miei ragazzi che stanno leggendo in classe, qui vedete come hanno letto in classe. Fra poco arriviamo. Quindi questo è stato il nostro progetto legato a ICLEAL. Quindi io ho avuto un finanziamento, ho avuto un aiuto da Elias per comprare questi libri. Sono stato selezionato come insegnante. E abbiamo fatto questo extensive reading. No, lo chiamiamo così extensive. Intensive vuol dire che non è intensivo, che non serve per apprendere certe parole su cui io poi faccio degli esercizi grammaticali, eccetera, eccetera, ma è una lettura per piacere. E non leggiamo tutti lo stesso libro, ognuno legge il libro che gli va. E può rimetterlo al suo posto se non gli piace, deve solo dare una motivazione per cui non gli è piaciuto. Questo è stato il principio. L'obiettivo è la promozione della literacy, quindi dell'alfabetizzazione, e l'abilità di lettura attraverso questo reading for pleasure, sia col cartaceo che con il digitale. Naturalmente, siccome insegno una lingua straniera, l'abbiamo collegato pure a CLIL, in modo tale che per avere contenuti, diciamo, non tipicamente della lingua inglese, ma delle altre materie. Questo è stato il nostro progetto. Chiaro che, come insegnate la lingua inglese, il mio focus deve essere sulla comunicazione. Quindi non posso dire, ragazze, leggi un romanzo, leggi qualcosa, solamente devo avere un ritorno, una caduta didattica. Quindi, per quanto mi riguarda, principalmente, è la comunicazione. Loro leggono, come prima fase di input, ma voi lo sapete benissimo, perché poi voi l'avete studiato l'inglese. Qual è la nostra barriera? La difficoltà per cui non riusciamo ad essere dei parlanti inglesi fluent, no? Proficient, efficaci. Perché non abbiamo avuto abbastanza palestra, non abbiamo avuto abbastanza opportunità per praticare l'output, cioè lo speaking e il writing. Quindi la produzione orale, la produzione scritta. È lì che io voglio portare, ragazzi, perché è questo che dà loro competenze e perché è questo che dà loro opportunità di viaggio, di studio all'estero, di lavoro. Ma come più volte ha ripetuto Angelo, questo pomeriggio, anche di una parola che forse tende ad essere dimenticata, ma per quanto mi riguarda, viene prima di tutto democrazia. E ragazzi, all'estero, io sono metà austriaca, hanno tante, tante, tante opportunità. Quindi si tratta anche di dare ai nostri la possibilità di viaggiare, di uscire, di conoscere, di andare su internet, di capire senza una traduzione. E questa è libertà. Dunque, abbiamo fatto questo progetto per lo sviluppo, dunque, dell'attività didattica centrata sullo studente, per migliorare le competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera. E questi sono in inglese, ma io traduco, non ti preoccupare, Angelo. Comunicative, non la lingua straniera, la collaborazione, l'ha citato pure lui, il pensiero critico, la capacità di risolvere problemi, la creatività e l'imparare ad imparare. Quindi si tratta di dare gli strumenti ai ragazzi per diventare autonomi. Ma che cosa fai tu, docente d'inglese? Se la biblioteca non ce l'hai? Te la metti in una valigia? Che problema c'è? Guardi, questo è il mio trolley. Quando io mi sono comprato questi libri con l'aiuto di Lyons, e me lo sono messo in questo trolley. E c'erano queste valigie che viaggiavano per la mia classe, perché io ce ne ho sei di classe. Quando io vado con la quella, Bildella me lo teneva nel coso delle scuope, dello spazzolone, così, e io me lo portavo nella classe. E un'ora alla settimana noi abbiamo fatto questo progetto. E si chiamava Read-On. Dunque, come ho detto prima, non si tratta solamente di far leggere per perdere un'ora, così, per rilassare, che comunque ha un suo vantaggio nel fatto del benessere dello stare a scuola. I ragazzi, adesso ve la faccio vedere, qua sull'ora è un liceo coreotico, sono questi qua, hanno fatto questo lavoro, è loro, non l'ho fatto io, hanno scritto in inglese, questi siamo noi, siamo un team, e hanno raccontato di cosa è consistito questo progetto dell'Oxford University Press. Questi sono loro, il giorno in cui hanno aperto il trolley, ma professoresse, ma questi libri sono tutti per noi. Sì, grazie, voi potete scegliere quello, ma li dobbiamo leggere tutti, professoresse? No, tu leggi quello che ti piace a te. Tu prendi il libro, se non ti piace, leggi la prima pagina. Se tu vedi che leggi la prima pagina, che riesci a capire, abbastanza vai avanti, altrimenti torna indietro, prendi un altro libro che ti piace di più. Dunque, questa libertà, anche data ai ragazzi, è molto inclusiva, non trovi? Quindi, questo è stato il progetto del Ridon, questi sono loro a teatro nello stage di fine anno, l'abbiamo collegato a varie materie, storia, filosofia, storia dell'arte, matematica, fisica, poi loro hanno fatto i loro progetti, in questo caso, sulla letteratura inglese, la storia in italiano, hanno fatto un video, un vero video, che è entrato anche alla Facoltà dell'Unità della Sapienza per audiovisivi, cioè un video molto bello, fatto da ragazzi, non voglio far perdere il tempo adesso, poi hanno fatto vari progetti, sulla città, che hanno letto di questi libri, questa cosa ha fatto a New York, c'è un ricetto su Phantom of the Opera, quindi ognuno ha fatto una sua presentazione, anche quelli della terza hanno fatto diversi lavori, pure, adesso non riesco a vedere, si qui, ok, io parlo un po' tedesco, certe volte insegno inglese, ma parlo tedesco, ecco, questi sono quelli della terza, che sempre leggono i loro libri, quindi hanno sempre fatto dal digital storytelling, ok, per esempio, in questo caso, se io clicco qui, vedo che cosa loro hanno fatto, una piantina di Londra, con ciascuno di questi ragazzi che racconta con dalle video animazioni, non so se qui c'è, ok, quindi dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi in varie maniere, questo chi è? Sempre Gaia, ok, in questo caso ho un'esperienza di digital storytelling, che è uno del mio, quindi ciascuno di loro ha potuto esprimersi attraverso la tecnologia trovare anche altre modalità per fare queste palestre nella classe, qui hanno raccontato il libro che avevano letto con un thing link, con un altro strumento, diciamo, dove aprendo qui si può vedere questa è un'immagine attiva, quindi ci sono dei link e le ragazze hanno scritto in inglese si è riassunto poi l'hanno collegato a dei video, se io clicco qui posso vedere il video di YouTube con Walt Disney, quindi hanno fatto tutta una ricerca per trovare elementi, diciamo, quindi hanno approfondito, sono andati a cercare da altre parti, per me questo è molto interessante perché è esattamente quello che vado a cercare, vado a cercare l'ampliamento dagli scenari di apprendimento e la possibilità di ragazzi che continuino a studiare anche fuori dalla scuola, quindi togliere le pareti dell'aula, questi sono i punti chiave dalle azioni didattiche, quindi la comunicazione, l'extensive reading, leggere per il piacere di leggere, insegnamento di modalità creativa perché pure io mi diverto un sacco, l'apprendimento attivo, l'ha citato anche Angelo, e l'utilizzo dei strumenti del web 2.0. Quindi, per rispondere alla domanda, se penso a inclusione, a cosa io penso? Io penso a un gruppo, penso alle pare opportunità, I'm sorry, go back, penso a pare opportunità, penso a libertà che passa attraverso le opportunità e alla gioia, la gioia di condividere, la gioia di fare qualcosa insieme, di sentirsi un gruppo. E poi naturalmente penso ai bambini, penso al bambino che entra nella scuola, uccidiamo la sua creatività. Quindi, perché? Questo slide non è mia, è di una professoressa irlandese del college di Dublin College di Dublino che ha partecipato insieme a me. Io faccio parte del gruppo dei formatori della European School Academy di Bruxelles e lei ha fatto questa presentazione, ha presentato questo slide con il bambino che chiede ma perché devo andare a scuola? Perché dovrei? E come questa scuola supporterà il mio apprendimento? E come mi preparerà per la vita? Questo è un punto importante che come insegnante mi chiedo. E quando guardo i bambini, vedo dei bambini in crescita naturalmente che noi come insegnanti abbiamo il dovere di preparare non per il passato pur glorioso, è vero, ma soprattutto per il futuro. E per un futuro nel quale dovranno usare delle tecnologie che non sono ancora state inventate e dovranno risolvere dei problemi che forse noi ancora non conosciamo nemmeno. Quelle cose significa includerli e prepararli per il futuro. Avranno bisogno di sviluppare strategie, strategie complesse che non possono trovare soluzioni di tipo individuale. Quindi avranno bisogno di una visione, avranno bisogno di creatività, avranno bisogno del supporto degli adulti, avranno bisogno di mettere insieme i puzzle, i pezzi del puzzle per trovare delle soluzioni uniche ed innovative. Di questo avranno bisogno i nostri bambini. tu fai la fotografia delle mie slide ma io sono veramente le tue ti asobite e quindi l'azione didattica per quanto mi riguarda ma anche in European School Net a livello europeo si focalizza sulle competenze da lì non possiamo dimenticarlo le conoscenze naturalmente sono necessarie ma queste si chiamano le 4C e si chiamano le 21st century skills perché i nostri bambini sono di un altro secolo e sono diversi da noi quindi hanno bisogno di queste competenze comunicazione che non significa solamente saper parlare inglese o abbiamo visto le statistiche che è l'analfabetismo funzionale ma saper condividere pensieri saper porre delle domande scambiarsi delle idee parlare di soluzioni la collaborazione che cosa significa lavorare insieme per raggiungere un obiettivo mettere in condivisione talenti expertise cioè la propria competenza per le proprie intelligenze perché si parla di più intelligenze per raggiungere dei risultati il critical thinking saper guardare i problemi in prospettive nuove mettendoli in collegamento attraverso varie discipline e materie e la creatività trovare nuovi approcci per risolvere le cose che equivale a innovazione e invenzione dunque qui in questo slide che io di solito propongo quando lavoriamo su CLIL critical thinking viene declinato con non voglio perdere troppo tempo adesso ma ok quello che mi interessa soprattutto è la collaborazione la comunicazione la creatività la creatività è sempre di periferia non viene mai dal top della piramide non è mai dai capi la creatività è da noi che stiamo alla base questo dunque dobbiamo cercare di sviluppare nei nostri ragazzi la generazione delle idee il design il refinement rifinire le idee fare rifare migliorare attraverso una didattica attiva trasversale come può essere il PBL cioè il project based learning lavorare su progetto o il digital storytelling l'inquiry based learning l'indagine posso cercare di aiutare i ragazzi a raggiungere queste competenze mi piacciono queste slide che è dell'Ocse non è mia abbiamo le competenze fondamentali di base cioè quelle che i ragazzi dovrebbero imparare per i task della vita per le sfide per i compiti quotidiani saper leggere saper scrivere fare di conto scienza tecnologia finanza culturale eccetera le 4C che abbiamo visto e poi ci sono tutte queste che fanno il cittadino che lo rendono libero che lo rendono un essere umano completo e che passano anche attraverso la lettura la fantasia la creatività la curiosità l'iniziativa la resilienza capacità di persistere negli obiettivi l'adattibilità flessibilità la capacità di essere un leader di prendersi delle responsabilità la consapevolezza sociale e culturale bellissimo questo quando ho partecipato all'Ulsemburgo ho preso un premio per la didattica digitale in Europa sono stata la seconda docente premiata hanno presentato questo livello della commissione europea il manifesto per la competenza digitale l'Europa la digital skills l'Europa 2020 quindi si parla di opportunità dei cittadini europei e non stiamo dietro quindi dobbiamo correre un pocattino perché dare a tutti non solamente ai giovani ma a chi è in realtà lavorativo ma anche alle persone più anziane la possibilità di accedere alle informazioni e quindi di essere alla pari degli altri di accedere alla democrazia di dialogare con gli enti governativi si tratta anche di competenze quindi nella mia didattica cerco anche di dare la possibilità ai ragazzi di sviluppare competenze digitali è di renderli protagonisti attivi attraverso questo quindi di solito il digitale entra non in forma passiva non la subiscono ma la utilizzano quindi non voglio che usino solamente come fanno loro videogiochi sono abituati a usare la tecnologia in senso passivo ma devono essere creatori di contenuto quindi essere autori usando i prodotti digitali per documentare le esperienze di apprendimento che cosa hanno imparato rielaborare in secondo luogo saper usare la rete e non subirla ed imparare che l'informazione è dappertutto questo è vero noi diciamo 24 ore per 7 giorni alla settimana ovunque ma il punto chiave che rende veramente competente il cittadino digitale è anche se per riconoscere avere le competenze per capire se questo è immondizia o è o è valido ok validare le informazioni perché l'abbiamo sappiamo tutti che internet è il più grande contenitore della storia umana della conoscenza umana il più grande contenitore come anche della porcheria diciamo bello e brutto tutti e due d'accordo noi che usiamo questi termini nativi digitali spesso siamo degli illusi pensiamo che la tecnologia i ragazzi già la conoscono meglio di noi in realtà dalla mia esperienza personale ma Elisabetta Nanni è formatore da anni in questo settore ci rendiamo subito conto che tutto fake è un'illusione perché loro sanno fare selfie sanno fare snapchat siamo su instagram costantemente ma creare delle cose usando la tecnologia no quindi soffia nel vento è scritto sulla sabbia e non sanno fare queste cose queste sono competenze che li rendono cittadini attivi quindi cercare validare analizzare selezionare integrare mappare creare e imparare la cittadinanza digitale responsabilità in etichette combattere il cyberbullismo che è un problema serio ci sono nuovi fenomeni che non conosciamo sexting vamping non li conosciamo ma io vedo i genitori che vengono a parlare con me a scuola e mi dicono sta sotto le lenzuole passo mezzanotte per vedere tutto il posto ma vedo la lucina del smartphone che si stanno messaggiando non va bene evitare il plagio citare le fonti che sono pure delle competenze accademiche questo personaggio forse lo conoscete Alvin Toff uno dei principali studiosi della tecnologia dice I'm not going to non leggerò in inglese l'ignorante l'analfabeto del ventunesimo secolo non saranno quelli che non sanno leggere o scrivere saranno coloro che non sanno imparare disimparare e reimparare quindi destrutturare tutto il processo e ricostruirlo questo Alvin Toff 1924 nella didattica trasversale che è una didattica ormai non più innovativa perché ormai si fa dappertutto in Europa siamo solamente noi o anche nelle altre parti non solamente noi ma che o non vogliamo farlo tanto ok quindi utilizzare gli strumenti dal web 2.0 anche 3.0 le app tutto quanto altro avendo ben chiaro però come insegnanti quali sono i nostri obiettivi cioè non lo strumento in sé per sé non è la LIM che cambia le cose è l'insegnante con la propria progettazione che lo fa e quindi questo modalità didattiche nuovi ambienti di apprendimento pratiche innovative di conduzione della classe che cosa significa fare un passo indietro lasciar parlare loro lasciarli farli lavorare in gruppo dare come diciamo noi voice and choice cioè fare scegliere anche qualche cosa qualche volta le cose da studiare e usare le tecnologie multimediali quindi siamo quasi alla fine Angelo spero di non aver esagerato con i tempi come insegnante io mi impegno a l'ascolto attivo in inglese si dice listening to listen not listen to reply ascoltare non per cioè ascoltare per ascoltare non ascoltare per rispondere la maggior parte delle persone ti ascolta e ti interrompe per rispondere e con i ragazzi noi ci sentiamo spesso autorizzati a farlo a non ascoltarlo poi progettare scenari di apprendimento attivo non so se conoscete queste frasi molto famosi Benjamin Franklin quindi non esattamente del ventunesimo secolo ma molto dimmi e dimentico insegnami e ricorderò coinvolgimi e imparerò quindi fammi essere attivo i ragazzi hanno questo desiderio di dare un contributo di cambiare il mondo di dare un senso anche a quello che studiano pertanto questo è il mio approccio è un approccio europeo da teacher led quindi mandato dall'insegnante condotto dall'insegnante a student center i ragazzi sono al centro i ragazzi sono al centro del loro progetto processo di apprendimento e la strategia la metodologia e soprattutto l'inquiry based learning io do le domande che farei durante le interrogazioni gliele do prima e gliele do più difficili perché le elaborano in gruppo e il project based learning questi sono solo degli screenshot dei lavori che hanno fatto dei video questo è un prazi che è stato fatto dall'intera classe non da una sola persona technology enhanced vuol dire con il supporto della tecnologia questi sono dei semplici manifesti possono sembrare ma hanno dei QR code significa che con i cellulari come stanno facendo qui i ragazzi inquadrano e possono rilevare il QR code che conduce al sito web dove ci sono i loro lavori multimediali quindi li possono far vedere anche i compagni possono avere una audience più alta e questa autorialità non solo li responsabilizza ma li stimola e li fa diventare protagonisti il digital storytelling significa farli inventare dei racconti sfruttare la loro creatività e usare lo strumento digitale come amplificatore e come palestra delle competenze quelli vedete nel laboratorio dove stanno ascoltando dei racconti dell'orrore vedete che ogni screen ogni computer ha un'immagine diversa e quindi non è solamente visivo ma è anche ascoltare quello che i ragazzi hanno raccontato in inglese e stanno facendo delle peer reviews delle recensioni fra pari che sono poi state valutate quindi dare anche un feedback ai compagni è una competenza che è sempre molto interessante per quando andranno a lavorare dovranno lavorare in un team è importante dare un feedback creativo e costruttivo quindi perché la tecnologia in classe perché è aumentativa e vedete questa parola inclusiva funziona molto bene soprattutto con i ragazzi che hanno delle difficoltà o che non trovano solitamente senso in ciò che viene fatto nei programmi scolastici quindi questo è un po' il nostro manifesto per quanto riguarda la tecnologia non solamente guardiamo su internet non clicchiamo e basta non chattiamo e basta non giochiamo e basta noi inventiamo progettiamo creiamo costruiamo e condividiamo e qui sono un po' le nostre idee quindi come insegnante mi impegno a promuovere il protagonismo proattivo attivo e a favore di questo è uno dei miei ragazzi che sta facendo la sua presentazione in classe favorire l'apprendimento fra pari e integrare più deboli fornendo scaffolding scaffolding vuol dire che quando l'insegnante gira fra i banchi e spiega mirato non spiega prima non spiega mirato quindi quando loro non capiscono allora io vado lì e spiego loro lavorano nel gruppo e io vado lì e corrego direttamente sul posto e questo li fa sentire integrati perché il più bravo vedete come ho fatto qua non si sono neanche accorti che li ho fotografati aiuta gli altri è il collaborative learning che è la base del lavoro in un'azienda noi insegnanti non sappiamo collaborare o siamo prime donne individualisti siamo degli innovatori isolati e silenti che non trovano interlocutori spiace molto da dire ma è così queste parole sono degli acronimi in inglese team together everyone achieves more insieme tutti raggiungono di più ottengono di più e group guide respect organize unite and participate guidare rispettare organizzare unire e partecipare quando sono la faccio vedere ragazzi nella classe li appendiamo nella classe promuovere i talenti e la creatività dei ragazzi vengono fuori delle cose strepitose hanno fatto dei video scrivendo queste cose se incontrassi malale si sono fotografati io non ci sarei arrivata da sola veramente questa ragazza fortemente dislessica io ho il consenso dei genitori a far vedere queste cose anzi i genitori sono dagli sponsor di questo ha fatto questa presentazione su Aung San Suu Kyi ed era felicissima di poter finalmente parlare nella classe in inglese e con cose molto piccole non importa ma ha fatto la sua parte quindi creativity is intelligence l'intelligenza è la creatività è l'intelligenza che si sta divertendo non l'ho detto io ma l'ha detto questa persona è quando smetti di imparare incominci a morire creatività è contagiosa più la usi non la consumi usandola più la usi più ne hai e l'ultima cosa è quindi dare la voce ai ragazzi loro sono molto contenti di poter dire quando li responsabilizza e lasciarli liberi anche di scegliere come apprendere non è detto che il frontale sia l'unico modo ok qui potrei far vedere ma non esagero i blog dai miei ragazzi tutti quanti hanno il loro blog dove raccolgono i lavori che fanno quindi sono degli autori l'ultima cosa per quanto mi riguarda è fare in modo che stiano bene in classe e facilitare il dialogo fra di loro alla missione dell'insegnante il mio sogno di scuola è questo cioè meno ansia più entusiasmo meno mobilismo più azione meno ascolto passivo più costruzione più creatività perché se noi chiediamo a ragazzi italiani cosa pensano della scuola non gli piace se lo chiediamo a ragazzi olandesi tedeschi austriaci eccetera stanno bene a scuola perché a scuola trovano la socialità quindi siamo partiti da qui dalle domande di Bardini secondo me per includere è necessario prima di tutto conoscere bene chi è l'altro e chiedersi chi sono veramente i nostri ragazzi vi voglio far vedere questo breve posto due minuti d'ora è un ragazzo di Udine che è arrivato nella nostra scuola noi non sapevamo chi fosse però adesso gli facciamo fare i video di Flip Classroom perché questo è un talento come noi possiamo includere come possiamo includere un ragazzo come questo che in una scuola tradizionale non può altro che morire di noia ascoltatelo ciao a tutti ragazzi io sono Andrea Ricicero qua su YouTube vi farò conoscere bene con le ex loci ho 14 anni vengo da Cadroaco in provincia di Udine in Trivia e Giulia e ho deciso di aprire questo canale di YouTube per condividere quello che faccio con delle persone e quello che gioco e quello che deciderò di portarvi come contenuti su questo canale sono molto emozionato di fare questo video perché è l'inizio di una nuova cosa per me e anche per i miei amici tutti quelli che mi stanno vicini io ho intenzione di essere costante nel portarvi dei video nel portarvi dei contenuti ma anche per me stesso perché a me piace moltissimo YouTube vedere video su YouTube e l'idea di adesso poter fare anche io YouTube ma poterlo fare in modo serio per così dire come sarà mi rende felice quindi in questo canale vi porterò moltissimi gameplay giochi specie Minecraft che mi piace moltissimo poi vedremo altri giochi in futuro dei vlog quindi quando andrò in giro filmare tutto quello che faccio perché a me piace moltissimo andare in giro anche con gli amici e poi challenge ovviamente le girano moltissime in giro su girano in giro si può dire non so le girano moltissime su YouTube quindi ovviamente dovrò farne almeno vali e poi magari anche qualche recensione di attrezzature giochi o non lo so vedremo quali in futuro come ho già detto a 14 anni vado a scuola a Sedegnano sono in tazia Maria ho molti amici sia a 4 che a Sedegnano e anche insieme a loro porterò avanti questa avventura almeno fino alla fine di quest'anno e che dire per questo video può che concludersi qua io vi ricordo di lasciare un like iscrivetevi al mio canale per supportarmi e aiutarmi a crescere attivate la campanellina vicino al tasto iscritti così potete rimanere aggiornati quando caricherò i miei video e niente un saluto da Andrea Cicci e da Andrea Di Sorghi o quello che volete ciao questi sono i nostri ragazzi non è l'unico caso e quando le facciamo entrare nelle nostre classi loro devono dimenticare che sono perché come diceva Angelo Bardini c'è un cervello per la mattina e un cervello per il pomeriggio basta grazie grazie grazie